L'imputato non ha commesso il reato, questo si è vinto dal dibattimento e in sintesi una parte delle motivazioni del giudice del Tribunale di Patti e Leonora Vona, depositate ieri in relazione alla soluzione di Francesco Marino, 50 anni, amministratore unico di una società di Mister Bianco. Era imputato di falso per una vicenda del dicembre 2014, quando Marino presentò una domanda di partecipazione ad una procedura negoziata indetta dal Comune di Librizi per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione di spazi pubblici. Era stato accusato di avere attestato falsamente nella documentazione prodotta agli atti di gara di non avere commesso violazioni gravi della normativa in ordine al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente legislazione. A seguito di ciò si contestò all'imputato un'irregolarità contributiva nei confronti dell'Inps per contributi del 2014. Per tale ragione la sua società venne esclusa dalla procedura negoziata. Il Tribunale di Patti, nelle motivazioni della soluzione, ha accolto in pieno la tesi difensiva dell'Avvocato Antonella Marchese. Il giudice ha dato atto che dalla documentazione prodotta dalla difesa e dall'esame dei testimoni sentiti in dibattimento è emerso in modo incontrovertibile che l'imputato non ha commesso alcuna violazione. La presunta irregolarità contributiva si riferiva in realtà a contributi per i quali non era ancora scaduto il termine del pagamento in quanto gli stessi, in virtù della rateizzazione, avrebbero dovuto essere pagati entro il 2015. Da qui l'insussistenza dei fatti contestati.